Il corso di laurea in scienze dell'amministrazione digitale intende formare laureati in grado di operare efficacemente nelle amministrazioni pubbliche e in generale nelle organizzazioni pubbliche e private attraverso una solida formazione multidisciplinare giuridica, economica e aziendale in modo tale da consentire ai nostri studenti di poter contribuire allo sviluppo di un moderno capitale umano nelle amministrazioni pubbliche. Questo intendiamo farlo attraverso una formazione a distanza in modalità online in modo tale da consentire anche agli studenti lavoratori di poter frequentare il nostro corso di laurea.